Davide, è successo tutto in fretta, la firma, dopo due giorni il debutto a gara in corso, una partita importante con la spalla, hai avuto tempo di renderti un po' conto di cosa è successo? Beh, è stato tutto, come hai detto tu, molto veloce, ho saputo che dovevo venire qua, sono partito subito, ho fatto le valigie in fretta e sono riuscito a fare la rifinitura con la squadra e sabato ho esordito, ho giocato una mezz'ora di partita e adesso inizio a realizzare, ecco perché è stato tutto talmente veloce che non c'è stato il tempo per capire bene cos'è successo. Ti volevano tante squadre anche di Serie A, si è detto come mai hai scelto il Monza, come ti ha convinto il Dottor Galliani? Beh, il Monza penso sia, sia impossibile dire di no a una società del genere, così ambiziosa, così organizzata, così importante, penso che chiunque vorrebbe venire qua e quindi era impossibile dire di no, sono contentissimo dell'opportunità che mi è stata data e cercherò di dare il 110% per ripagare la fiducia che è stata riposta in me, ecco. Com'è il primo impatto con i compagni, col mister? Tra l'altro tu conoscevi Dani Mota, avevate già giocato insieme in passato. Sì, sì, Dani lo conosco, abbiamo fatto due anni insieme a Lentella e ci hanno sempre tenuti in contatto, quindi sono contento di averlo ritrovato e comunque con i ragazzi mi trovo bene, mi hanno accolto alla grande e devo ringraziarli perché in questo modo qua è più facile comunque ambientarsi, è più facile riuscire anche a giocare in campo, a capire le dinamiche di squadra, è quello che chiede il mister, quindi devo veramente ringraziare tutti perché mi hanno accolto davvero bene. Sabato un altro big match, ancora di più arriva la capolista Empoli, una squadra che sta facendo molto bene, che partita sarà? Sarà una partita bella, bellissima perché comunque si affrontano prima contro seconda, è una partita che non sarà decisiva perché ne mancano davvero tante, però comunque sono punti che pesano e sarà una partita difficile per noi e per loro, l'obiettivo è quello di sicuramente di provare a vincerla e ci proveremo con tutte le nostre forze. La Serie A, dicevamo, l'hai sfiorata forse già adesso, quanto sogni di giocarci, di giocarci col Monza, tra l'altro nello spogliatoio ci sono tanti giocatori che l'hanno fatta, giocatori anche dal cognome importante. Sì, beh, quello è un sogno che rimane, che coltivo da sempre, da quando ho iniziato a giocare, poi si sa che ci sono tante dinamiche nel calcio, non è facile, io sono arrivato nel calcio professionistico, nel calcio che conta da 24 anni, quindi solo cinque anni che gioco a questi livelli, diciamo, per cui giocare con dei campioni, essere in spogliatoio con dei campioni è un motivo d'orgoglio, è fonte di ispirazione perché comunque penso che tutti possano imparare tanto da giocatori come Balotelli, Boateng, Paletta, quindi sono contento sotto tutti i punti di vista di essere qua e spero di poterci giocare presto. Cosa vuoi dire ai tifosi e soprattutto come dobbiamo pronunciare il tuo cognome? No, beh, i tifosi li saluto, qualcuno mi ha contattato sui social, mi hanno fatto piacere ricevere dei bei messaggi di benvenuto e il mio cognome, un po' come volete, dai, sarebbe la pronuncia corretta, dovrebbe essere Giao, però poi all'italiana è diventato Diav, poi si è trasformato in Dio, insomma, va bene in tutto, tanto mi giro in tutti e tre i casi, ecco.